Andrea Marangonna, presidente della sezione AIA di San Donà, sezione che inaugura una nuova sede alla Villaggio San Luca, una sede nuova per una sezione che cresce. Sì, l'augurio è quello che la sezione cresca, siamo molto contenti di inaugurare questa sede, a dire il vero l'inaugurazione era pianificata per il marzo del 2020, le vicende ben note ce l'hanno fatta posticipare, però siamo molto contenti, molto emozionati, soprattutto molto orgogliosi, perché tutto quello che vedete è stato fatto dai nostri ragazzi, dai più giovani, da quelli anche meno giovani, e quindi questo ci rende orgogliosi di condividere poi con gli amici delle altre sezioni del Veneto, con i dirigenti regionali e nazionali, questa nostra creazione. Ecco, parliamo un po' della realtà degli arbitri sandonatesi, una sezione che ha una storia lunga, adesso quanti iscritti, ricordiamo anche chi è intitolata. Siamo 101 iscritti al momento, come detto speriamo entro la fine dell'anno di riuscire a recuperare qualche altro giovane, perché è importante avere dei giovani su cui investire, con cui pianificare nel lungo periodo. La sezione è intitolata ad uno dei nostri fondatori, Guerrino Trastulli, originario di Terni, che appunto è stato tra i fondatori e il primo presidente della sezione. Sono contento di ricordare che con oggi abbiamo intitolato la nostra sala riunioni a Mario Iseppi, anche egli fondatore della sezione, che ci ha lasciato qualche mese fa, e abbiamo scelto di intitolare il luogo dove facciamo formazione a Mario, che è stato un formatore come arbitro prima, come dirigente poi, e quindi è un luogo dove possiamo ricordare a Mario ogni volta che viviamo la nostra sezione, lui che la sezione l'ha avuta a cuore fino all'ultimo. A proposito di formazione, per chiudere, proprio di recente avete fatto un incontro importante con il capo degli arbitri UEFA, Rosetti, è venuto anche Orsato. Insomma, un momento importante che chiude con questa inaugurazione un mese tutto dedicato agli arbitri. Un mese molto molto impegnativo, ma altrettanto pieno di soddisfazioni. Avere il Comitato Nazionale oggi e Roberto Rosetti due settimane fa è un motivo di grande orgoglio, e diciamo che chiudiamo in bellezza una stagione che era iniziata, possiamo dire, nel peggiore dei modi, perché, come detto all'inizio, abbiamo dovuto fare i conti con gli esiti, con i risultati della pandemia, e abbiamo avuto tantissime difficoltà a coprire le gare, quindi un grazie di cuore ai miei ragazzi, che si sono fatti letteralmente in quattro per permettere ai campionati locali e regionali di essere espletati con la regolarità che era auspicabile. Nel momento in cui una tradizione così illustre come quella della sezione sandonatese dell'AIA riesce a compiere un'altra tappa importante, tutta la città, anzi le città, visto che molti vengono dai comuni vicini, fanno festa. Una storia importante, lo ricordava lei, lo ricordava anche il Presidente. Facciamo un augurio anche per tutta la storia che verrà. L'augurio è che questo possa diventare un luogo frequentato dove si cementano anche amicizie, dove si impara la passione per uno sport fatto bene, che possa far divertire anche gli altri e tutto questo a beneficio della comunità.